Partiti! Partiti gli atleti della M2! Partiti gli atleti degli atleti partecipano, grazie a Nicola De Lorenzo, medaglia d'argento, si era preparato molto bene per questi campionati italiani e il bronzo non è Bajocchi ma è M2! Scusa, Giuliano Montagnier, che è quarto nella M1 e qui c'è questo sprint che porta Bajocchi, sì, allora al terzo posto e Nicolodi al quarto, qui ne abbiamo tre italiani ai piedi di Club El Coy! E questo è un ottimo momento del sport qui nella linea finita per la M2, il primo posto per la Turbetskoy! Sono contento perché ci tenevo, l'ho preparata bene, quindi bene, la pista è perfetta, l'organizzazione è ottima, per cui bene! Il primo era... Sta arrivando Roland Kaller! Se provavo a seguire, andavo fuori i giri, quindi meglio così, ho fatto via con il mio ritmo! Un bel argento, complimenti! Sono contento! E un bel argento, è un bel argento, è un bel argento!